La situazione non è assolutamente perfetta, è sotto gli occhi di tutti e non si può mentire, bisogna essere seri quando si dicono le cose. I margini sono enormi, c'è tutto un mondo da costruire. È evidente che i passi hanno comunque i loro tempi purtroppo. Noi ci siamo attivati, stiamo lavorando da subito perché tra i primi atti dell'amministrazione c'è stata l'adozione dell'applicativo Decoro Urbano, c'è stata la partenza della sperimentazione e della spinta, ai cappuccini, c'è stata la formazione di una giuria di cittadini per seguire quelli che sono i disagi nel realizzare la raccolta. Adesso cosa facciamo? Abbiamo aderito prima di tutto al portale riusalo.it che sugli ingombranti e sui RAI darà la possibilità alla città di scambiarsi i beni, quindi non collocarli più ritenendoli rifiuti perché il concetto di rifiuto è aleatorio, non per tutti. I rifiuti sono rifiuti per molti, sono beni da riutilizzare, quindi questo sistema creerà un coinvolgimento della città tutta, la donazione di beni di cui disfarsi, quindi non collocare più accanto ai cassonetti, così come anche per i piccoli RAI di cui siamo abituati a disfarci in altra maniera. La collaborazione dell'azienda c'è, è stato chiesto uno sforzo per incrementare quelli che sono i passaggi e questo sforzo viene fatto, c'è una sintonia totale. Incontreremo i volontari per il corso di Ecuguardi e io sono onorato e grato della risposta di Vercelli perché siamo sopra i venti comunque iscritti. E poi che altro? Anche altri discorsi di una produzione di una socialità del rifiuto per condividere quelle che sono appunto materie che noi riteniamo, questi però sono aspetti che sono ancora in corso. Ci sono controlli che sono efficaci, la percezione della città forse non è puntuale ma grazie a sistemi concertati tra l'azienda che ha dato appunto massima disponibilità e la Polizia Municipale sono stati effettuati in ultime settimane 50 accertamenti. Parliamo di multe salate perché stiamo parlando dell'ordine di 200 euro e parliamo di rifiuti. Quindi il controllo c'è e adesso continueremo con degli strumenti fino ad ottimizzare la raccolta dei nostri rifiuti.